Assessore Monaco, innanzitutto complimenti e in bocca al lupo per la nomina di Assessore, le deleghe e poi gli obiettivi, i primi tre obiettivi che si pone in questo primo periodo. Le deleghe, cultura, università e pari opportunità, che sono poi quegli ambiti nei quali credo di aver maturato un po' di esperienza negli anni precedenti, vista sotto un altro fronte e da un altro punto di vista nell'ambito della mia attività lavorativa, che è quella di docente universitario, ma anche quella di parte dello staff di governance dell'Ateneo come delegata del Rettore alla terza missione e promozione del territorio. Ho avuto modo di vivere la mia città sotto questo profilo e quindi di vedere quante possibilità di sviluppo culturale la città offre, lavorando all'interno dell'università. Adesso provo a portare un poco della mia esperienza per dare un contributo a questo sviluppo dalla parte dell'amministrazione. Sono tre deleghe che in parte hanno azioni che interveniscono tra di loro, però comportano anche problematiche abbastanza diverse. Questi primi due giorni, tre giorni sono stati veramente una full immersion in una serie di problematiche che mi hanno dato modo di vedere come c'è una progettualità intorno a queste tematiche superiore a quello che io stesso conoscevo prima e che la città conosce e che merita di essere valorizzata. Adesso credo che la mia prima settimana di lavoro è essenzialmente di studio, come sono abituata a fare prima di partire operativamente, ma sarà un periodo molto breve perché la città merita una presenza attiva e viva. Devo dire che in questi due giorni ho avuto modo di incontrare già associazioni e iniziative. Ieri sono state due presentazioni di libri, stamattina alla biblioteca comunale dove ho incontrato tre associazioni. Questa città è ricca di energie che possono fare la differenza. Quindi se mi chiede gli obiettivi, sotto questo profilo gli obiettivi sono innanzitutto... Uno forse glielo suggerisco io, visto che ha parlato della biblioteca, magari inserire il riscaldamento in pianta stabile all'interno dello stadio. Quando ho detto che ho bisogno di studiare i problemi, le posso dire che ho fatto già una lunga seduta a Sant'Agostino per evidenziare quelli che sono i problemi di quella struttura. A settimana entrante, appena possibile, ne farò un'altra alla biblioteca. So che c'è questo problema perché mi era stato già segnalato dalle associazioni che operano lì, per il progetto, l'Anti per Leggere, ci sono i bambini, quindi è chiaro che è un problema che va assolutamente affrontato e risolto. E in parte si intreccia anche con quanto ha detto il mio collega per il decoro urbano, per la parte dell'accesso alla biblioteca. E ovviamente il terzo polo, altrettanto importante, sarà San Leucio, che a sua volta merita un'attenzione intensa. Quindi gli obiettivi, al di là dell'obiettivo preliminare, che è quello di studiare il più velocemente possibile tutti i dossier, innanzitutto portare avanti, portare a termine i progetti che sono stati iniziati perché ci sono e meritano. Lunedì mattina, per esempio, ci sarà un primo tavolo di lavoro per un progetto approvato dal MIBACT sull'Appia Felix, che è stato presentato da questa amministrazione già qualche anno fa, quindi si vedono che cominciano a raccogliere risultati di un'azione che è stata intrapresa già da tempo. Quindi il mio primo dovere, credo, è quello di portare avanti bene quei progetti che sono stati iniziati e che adesso possono raccogliere dei risultati per la città. Poi il secondo obiettivo è fare rete, la connessione. Ho già chiesto di contattare e poi arricchire, se possibile, l'elenco delle associazioni che operano sul territorio per poter, oltre alla progettazione di grandi eventi che portano la città fuori dal territorio, come immagine, a lavorare meglio invece sulla connessione e sullo sviluppo del senso di cittadinanza e di appartenenza. Penso che uno sviluppo della cultura ha bisogno di una capacità di vivere il proprio territorio e di una responsabilizzazione di tutti i cittadini. Di conseguenza avrò bisogno di un aiuto forte da parte delle associazioni che già operano sul territorio. Ieri ho visto un bel segnale, due presentazioni di due libri importanti, tutte e due sulla legalità. Questo è uno dei temi che ovviamente mi sta a cuore. Io vengo da una formazione giuridica, sono una docente di diritto, ma non è spesso. C'era il dottor Cantone per chi... C'era il dottor Cantone, sono stata la presentazione del libro... Sieme con l'Arcivescovo Paglia. Sì, era un bel segnale perché c'era tantissima gente. Sì, poi per i dettagli potete vedere, dico a lei come ai web ascoltatori, potete vedere tutto su Gold Web TV perché c'eravamo anche noi. Terzo obiettivo, assessore. Terzo obiettivo, una volta che si è fatto ascolto e connessione, mettere in pratica. Quindi anche cercare di verificare quali buone pratiche che sono utilizzate anche altrove possano essere portate nella nostra città. Il tempo che c'è davanti di questa amministrazione è un tempo definito per il momento. Ma credo che quando si semina, come diceva il collega precedentemente, si semina per il futuro. Io ho lavorato per molto tempo fuori. Diciamo che mi sono riappropriata dalla città perché la mia prima parte della carriera l'ho fatta fuori all'Università di Teramo. Diciamo che l'obiettivo è quello di essere felice di tornare a dare un contributo nella mia terra, non per un fatto di campanilismo, ma per un senso di appartenenza. Io vorrei che questo senso di appartenenza che è rimasto a me in tutti questi anni, anche a distanza fisica, potessi condividerlo con i cittadini. L'obiettivo forte per me è un avvicinamento sotto il profilo ovviamente che mi compete della cultura, dell'università e delle pari opportunità tra l'amministrazione e il territorio.